Allora, domani buona caccia, questo quant'è? 4,4 g, circa 450 g, bello, intonzo e statino, questo, tutto è statino, vai, metti la foto speso, vieni a vedere, questo è poco meno di mezzo filo, in totale praticamente sono circa 1,2 kg, che culo, che culo ragazzi, non mi viene da dire, questi non pesano niente un etto e trenta grandi, circa 4 g, bello, ti tocchi il culo